Lei non timbra? Eh? Lei? Lei non timbra? Eh certo che timbra, non ha un'amica... Ma poi questi dell'adac pure se non li paghi... Che? Ma poi qui non paga mai nessuno... Avete sentito? Dice che qui non paga mai nessuno... Io c'ho sempre dietro abbonamento! Io mi porto anche i biglietti di scorta! Certo che se continuiamo così le cose non cambieranno mai eh? Schiaffone! Schiaffone! Calma! Calma signori! Che succede qui? Lei si alzi per farlo vedere... Prego signorina si accomodi... Grazie... Insomma lei non ha il biglietto... Non ce l'avevo, non è chiesto... Ce l'hanno nostro biglietto... Guarda ma qui non paga mai nessuno... Ma che sta a dire? Hanno pagato tutti, lei è l'unico che non ha pagato... Guardi come la guardano... Si sta facendo riconoscere per un euro e mezzo... E mo si becca pure la multa... Ma la multa... Eh... Non farti riconoscere... Paga il biglietto...